Cioè, tu devi capire quello che ti sto dicendo. Io devo ricordarti di quello che disse Henry Ford, ovvero che le anatre depongono le loro uova in silenzio, mentre le gine schiamazzano come impazzite. E qual è la conseguenza? Che tutto il mondo mangia uova di gallina. Sì, infatti Gina schiamazza come una gallina insopportabile. Ah, guarda che tu senza Gina non saresti qui oggi. Ma che scemenze dici, dai! Ti ricordi l'altro giorno quando siamo andati a pattinare e lei guidava uno zamboni? Sì, e ricordo infatti che mi ha investito con la scema. No, vabbè, non l'ha fatto apposta. E poi tu sei svenuto e lei ti ha soccorso. Aspetta, in che senso? Nel senso che ti ha soccorso. Come lo posso dire? Cioè, ti ha fatto il massaggio cardiaco, la respirazione bocca a bocca. Cosa? Io ho baciato Gina? Ma stiamo impazzendo. No, dai, la respirazione bocca a bocca non la posso considerare un bacio. Io ho baciato Gina! Quella là si è approfittata di me privo di sensi. Ora la denuncio. Cioè, ti ha salvato la vita. Non la puoi denunciare per questo. Ma questa è vita? Avrei preferito sicuramente sua sorella a quel punto. Però, ecco. No, no. Sua sorella no. Iniziamo la live, dai. Poi fai tante storie, ma che odio Gina. Tu invece con Dina... Oggi il suo nome non lo voglio sentire, basta. Ah, iniziamo che il nostro pubblico ci attende. Basta queste scemenze. Ecco. Buonasera a tutti, dopo una settimana. Salve a tutti. Salve a tutti. Dopo che mi è esploso il computer. Giusto giusto il giorno della live. Incredibile. Esatto. Noi siamo tornati. C'è già Slade Wilson in chat. Buonasera. Per il tempo tosse, lembra. Non morire in live così. No, no, no. Se non mi ammazza il caldo, mi ammazzerà la tosse. Ebbene, oggi siamo qui, riuniti, per celebrare... No, scherzando. Simpatica battuta. Questa è la seconda puntata di Nani News. Anzi, non mi è giusto. Nani News. Esatto. Come era che tu avevi detto... Come quella di Kenny il guerriero o Ema Woshinderu. Oma Ema Woshinderu. Nani News. Esatto. Ma poi la nostra sigla dovrebbe essere quella. Non so come. Dovrei cambiarla in qualche modo, vabbè. Qualcuno ci faccia una sigla, per favore. Per Nani News. Sarebbe bellissimo. E la mettiamo al posto del countdown. Facciamo, copiamo spudoratamente il Cerbero Podcast. Facciamo prima il countdown e poi mettiamo la sigla e poi iniziamo. Tutto, tutto. Un bel mischione. Sì, sì, sì. Poi le live durano quelle tre ore. Esatto. E allora, che cos'è Nani News per quei poveri infedeli che non sapessero? Allora, al contrario delle altre live, dove parliamo di un anime specifico, facendo poi a caso spoiler di altri anime senza ritegno. In Nani News non ci sono spoiler, intanto, di niente. Anche di cose che già... O perlomeno proviamo a non fare spoiler, perché delle volte... Va bene, si proviamo a fare spoiler. Anche di cose che già abbiamo recensito, perché vorremmo che fosse almeno questa... Un tipo di puntata aperta ancora più persone. e si parla di varie news del mondo, manga, anime, bla 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 bla. Ok? Tutto molto bello. E io direi... E poi avrete le mie reaction in diretta a queste notizie, perché le cerca tutte Alex Ignazio e io completamente bianco. Esatto, come le scritte di oggi. Esatto. Anzi, come lo sfondo. Però si abbina con la S. Wow, incredibile. Bene, iniziamo con gli anime in uscita d'estate. Che è quest'estate. Oh, che bello. Finalmente non dovrò cercare da terze parti quali saranno gli anime stagionali. Sì, vorrei dire che sono contento. In realtà conosco uno o due delle cose. Però adesso io li... Ora li cerchiamo in diretta, poi. No, sono troppi. Quelli che ci sembrano più belli. Va bene. Poi li cerchiamo in diretta. Che palle che sei. Allora. Faccio proprio... Per il content, come si dice. Sì, sì. Allora. Vita da slime. Stagione due, parte due. E questo lo conosco e non lo cerchiamo. È un porno? Che cos'è? No, ne ha parlato tantissimo coso Watchmojo. Enrico. Ah, bene. Watchmojo. Ed è un isekai. Uno dei tanti isekai. E noi sappiamo che Watchmojo, quando dice una cosa, questa è vera. Esatto. Poi. Genjitsu Shugi Yusha no Okoku Saikenki. Bene. Bene. È un titolo molto accattivante. Però, allora, c'è scritto che è un anime di azione, militare, harem, magia sentimentale e fantasy. Manca soltanto genere giallo. Esatto. È anche questo un isekai, non viene detto. Non è questo un isekai. Poi, c'è la seconda, credo, c'è un due qua. Beh, potrebbe essere tipo un'altra serie, vabbè. Che si chiama Yubisaki Kara Honki no Nesujo 2 Koibito wa Shoubuoshi. Non voglio essere in te che devi leggere tutti questi titoli in questo momento. Io, infatti, neanche li ho letti prima con attenzione. Bene. Commedia sentimentale ed ecci. Questo è un ecci. Attenzione. Magari esce una perla tipo Bika de Chikei. Questo potrebbe... Precato che non mettono i... Ah, fan cagare i disegni, però non mi piace. Allora, niente. Poi, Eion Sedai no Hidaten Tachi. Che bello questa pronuncia molto nipponica comunque. Allora, poi, di alcuni anime ce la si no, di altri no. Tipo questo quello che ho appena letto, c'è scritto. Sono passati 800 anni da quando... Comunque sto leggendo da anime estate... No, da socialanime.it, se volete. Le fonti, le fonti. Eh, si citano le fonti, è giusto. Quindi, sono passati 800 anni da quando i demoni furono sigillati dagli dèi durante la battaglia Hidaten. Questa battaglia era solo una vecchia storia, un mito... Già mi ha rotto il coglione in una maniera incredibile. Andiamo avanti. Poi. Eh... Vabbè, allora non li leggo tutti, sono veramente troppi. Qui abbiamo Seirei Gen Ogen Soki. Seguiamo... Allora, azione, avventura, harem, drammatico, sentimentale, fantasy. Ma anche il militare ed è uguale a quello di prima. Ma sarà un isekai pure questo? Aspetta, aspetta, aspetta. Non lo sappiamo. Seguiamo la storia di Ryo. Un ragazzo orfano insensibile... Come? Vabbè. Orfano insensibile che vive nei bassi fondi. A soli sette anni si rende conto di essere in realtà la reincarnazione di Haruto Hamakawa, uno studente universitario giapponese con un passato tragico. Mentre ancora sconvolto da questa scoperta, Ryo viene anche a sapere che puntini puntini non si sa. Sono molto interessato. La suspense, ragazzi. Eh sì. Ecco, l'unica notizia che mi ha reso felice, se non mi ricordo male, forse ce ne sono altre, però c'è finalmente la seconda stagione di Kobayashi-san Chino-made Dragon. Finalmente! Sono l'unico qui che l'ha guardata perché se si è raggiutato. Io gli ho detto, ma ci sono dei draghi che fanno da cameriere? Fa guardo... Anzi, è solamente un drago che fa da cameriere e poi gli altri sono tipo draghi che in forma umana cazzeggiano. In realtà è molto carino. E sono contento che c'è la seconda stagione. Comunque gli ho scritto sempre estate o 2021. Può essere agosto, può essere luglio, può essere qualche cosa. Esatto. Poi, poi, vediamo un'altra... Scarlet Nexus. Uh, attenzione. Anno solare 2020. Futurissimo. Vabbè, organismi... Ieri, praticamente. Esatto. Vabbè, il futuristico 2020. Organismi grotteschi chiamati altri, cioè others, che immagino che in giapponese diranno Ada! Ada! Hanno iniziato a mangiare le persone. Per abbattere questo nuovo nemico viene formata la forza di soppressione degli altri, che gli altri sembra uscito da Lost. Fa molto Sartre, l'inferno, sono gli altri. Ma anche in Lost, due stagioni a dire, gli altri, gli altri, gli altri. Salvato da questa squadra d'elite da bambino, Yuhito, psico-cinetico... Ah, Yuhito, virgola, che non c'è. Psico-cinetico, resiste all'addestramento per arruolarsi. Dall'altra parte il prodigio, vabbè, già mi sono rotto i coglioni. Comunque, vabbè. Che poi, secondo me, sulla carta... Sulla carta un sacco di cose magari possono essere... Infatti. Attenzione, questo potrebbe interessare a te. O forse anche a tutti e due, visto che a noi piacciono le commedie romantiche. Attenzione, c'è questo anime che si chiama Kanojo Mo Kanojo. E se ho capito bene, qui ci sono le lesbicate. Attenzione. Allora, qui c'è scritto... Il titolo dell'inglese sarebbe Girlfriend... Cioè, sì, Girlfriend e Girlfriend. Quindi ragazza-ragazza, proprio nel senso di fidanzata. Aspetta, vediamo se riesco... Ora cerchiamo. Perché magari... Perché c'è scritto sentimentale, commedia, scolastico soprattutto, che... Incredibile, non l'avrei mai detto. Esatto, sì, infatti. Mo Kanojo, adesso... Ecco questo. Questo, cioè, da tutte le cose abbiamo avuto... No, questo ci doveva... Interessare. Più che altro adesso... Faccio vedere semplicemente la visual key... No, visual key. Vabbè, i disegni. Guardate, lo mostro. Il character design. Character design. Ok. Aspetta. Aspetta un attimo. Bene. I disegni non mi sembrano male. Mi dà solo fastidio. Sono brutti. Mi dà fastidio che ancora una volta... Diciamo che abbiamo un po' tutti i tipi di ragazze superficialmente. Esatto, però sembrano uguali. Eh sì. Cambiano soltanto i capelli. E il colore degli occhi. Esatto. È una cosa che succede anche ai più grandi artisti. Cioè, anche io, che sono un disegnatore di fama mondiale, ogni tanto mi capita di disegnare personaggi tutti uguali. Ma io poi quintessenzial quintuplets, come caspita, si pronuncia, l'hai visto? No. Molto carino. Ah, quello delle gemelle. Sì. Me lo scordo sempre. Prima o poi lo guarderò. Se mi dici che è carino, provo a fidarmi, che poi non... Quelle cose che mi hai suggerito erano una trappola. E qui la direi anche per Higeiro. Higeiro. Va bene, questa l'abbiamo fatta. Aspetta. Ah, beh. Un altro. Un film. Di Fate Grand Order. Come se ci fosse bisogno. Esatto. Ah, no, aspetta, ok. Questo era il film... Aspetta, ma no. È il film di Demon Slayer, no? No. Non era un... Ah! Aspetta. Un altro film? No, non è di Demon Slayer. No, questo è il film dei sette vizi capitali. Che se non fosse che l'anime fa cagare rispetto al manga, sarei un po' più contento di questa notizia. Lani, che poi il manga si è anche concluso. Sappiatelo. Ah, tra l'altro, questa è un'altra notizia, che poi faremo una brevissima recensione senza spoiler. È uscito anche Record of Ragnarok. Chiamato anche Shumatsu, no, Valkyrie, però lo potete trovare su Netflix, Record of Ragnarok, che io da sempre che vi dico cazzo, leggete il manga, guardate l'anime. Poi ne parliamo più nello specifico, però il sito ti dice che è uscito già ora. Grazie a questo anime. La nuova stagione, la nuova serie anzi, di Love Live. Sì! Sì! Sì, cazzo! Sono l'unico contento per questa cosa. Sì, cazzo! Sì, tipo l'Oscar. Esatto, e poi sono nuovi personaggi, quindi nuove future statue. Mamma mia! Non è una cosa meravigliosa, e stavolta però, anziché essere sempre in nove, perché finora hanno fatto tre generazioni, di generazioni per modo di dire, tre gruppi diversi, però sempre da nove membri, ok? Stavolta sono solo cinque, quindi forse le statue non saranno così tante. Menos statue. Esatto. Comunque, sono molto emozionato, sono contento. Vediamo. Sto guardando ancora alcune cose. Vabbè, poi tutto il resto... Ah, Gundam. Gundam. C'è un film su Gundam ancora. Vabbè, ok? Sono contento per voi. Come l'abbiamo sonobato questo film, poveretto, giusto? No, perché io non sono appassionatissimo, però magari... Vabbè, come Fate Grand Order. Va bene, dai, andate su socialanime.it e vedete il resto. Le cose più interessanti ve le ho già dette, le altre non so nemmeno che cosa sono, quindi... Quindi niente, dai. Però è uscito Love Live, sta uscendo il nuovo Love Live, penso che già questo basta e avanza per essere contenti. Ora, andiamo alla prossima notizia. Rumiko, cosa è successo? Ah, ho sbagliato. No. Ah, l'ho fatto diventare... Vabbè, meglio, chi se ne frega. Non so. Così, va sempre comunque molto telegiornale. Sì. Ah, quindi anche tutti gli altri sono così. Ah, ho sbagliato perché non ho messo ticker. Vabbè, chi se ne frega. Vabbè, magari ad alcuni dava fastidio che scorressero continuamente, non lo so. Comunque, Rumiko Takashi è il Tiamo. Che cosa voglio dire? Rumiko Takashi, per chi non lo sapesse, è una dea scesa sulla terra che ci ha regalato manga incredibili come Lamu, Ramma, Inuyasha. E questi sono questi tre più famosi. Poi, in realtà, tipo su Italia 1, allora non mi ricordo, su Italia 1 c'era un'altra sua creazione che in italiano appunto si chiamava E' Quasi Magia Johnny. Ah, sì, mamma mia. Johnny, E' Quasi Magia Johnny. Quello è sempre suo. Ed è molto sentimentale. Strano, lei non fa mai le cose sentimentali. Però, appunto, quelli che noi fan del lavoro di Rumiko Takashi, visto che lei fa sempre coppie che si amano un po', sì, vabbè, Lamu è proprio un rapporto un po' del cazzo, però Lamu, prima waifu suprema della vita, quindi ha un debito nei confronti di Rumiko Takashi. E tra l'altro qualche manga di Inuyasha ce l'ho, solo che non l'ho mai completato e niente, non riesco a prenderli perché ho cambiato la disposizione dei manga, adesso è tutto più stretto. Ah, aspetta, forse riesco. Ecco, questa è la prova che io non dico cazzate. Io fino al 6 di Inuyasha ce l'ho. Poi avevo smesso e ora sono diventati introvabili. Porca puttana, però vabbè. Comunque, quello di cui noi fan ci lamentiamo spesso, e stavolta è stata posta la domanda in maniera gentile, non è che gli ha detto, oh, a stronze, cioè che praticamente le coppie delle sue storie sviluppano un rapporto d'amore, perché è chiaro, no? Che però non viene mai detto chiaramente, pur comunque facendolo capire. Io addirittura, aspetta, tu hai finito Inuyasha? Non mi ricordo. Ok, Inuyasha non è tipo, cioè, nella serie dopo loro fanno figli, no? E quindi, dopo scontato che si ami No Kagome e Inuyasha, quindi sai, si viene... Spoiler di Inuyasha! Ma sì, ma vaffanculo, del 96 Inuyasha! E quindi giustamente gli viene detto, ma come mai, lei non fa dire mai ai suoi protagonisti, proprio ti amo in maniera diretta, ma ogni volta lo fa capire, che poi tra l'altro Ramma finisce in maniera aperta, cioè tu te lo devi un po' immaginare, no? È ovvio che si andrà... Non è finito quello che... L'anime fa cagare verso un certo punto, perché hanno cominciato a fare cose per i fatti loro, invece il manga è un po' me, un po' così. La Mugual, diciamo che Inuyasha era più serioso perché aveva proprio una storia con un inizio e una fine, ok? E Rumiko Takashi ci dice È solo un mio pensiero, ma ho come l'impressione che quando i personaggi di un manga si dicono ti amo, la loro storia finisca. Perciò ritengo che sia importante non dire ti amo a parole. Naturalmente, così facendo, i due potrebbero non capirsi o fraintendersi. Strano, mai successo nelle sue opere. Non so che cosa prova nei miei confronti. Ah, questi sono tipo i pensieri che si fanno i protagonisti. Non so che cosa prova nei miei confronti. In casi come questo, forse il partner potrebbe fare qualcosa per far capire che è innamorato. E questa sarebbe una cosa bella, no? Si può far capire di essere... Sta finendo, tranquillo. Si può far capire di essere innamorati anche senza dirlo a parole. Io faccio sempre in modo che i miei lettori capiscano che i due personaggi provano qualcosa l'uno per l'altra. Anche se le loro stessi forze non se ne rendono conto. E pensando a questi schemi per i miei personaggi che passo le giornate. Questa è comunque un articolo del 13 giugno di Anime Click. Se volete leggerlo in maniera completa, però... Lo posso dire? Eh, dillo. Ma va a fangulo! No, no, non è vero! Ma quando mai una storia finisce perché i due protagonisti ti dicono ti amo? Cioè, soltanto nelle commeduale quelle proprio base, basate e rosso-pillate. Basate e rosso-pillate è bellissimo! Cioè, su via! Comunque Remita Nero, se ancora sei nella chat, perché mi pare di no, ti sei perso un po' di fondo. Ti sei perso gli anime stagionali. Ti sei perso la nuova stagione di Dragon Maid! Vai! E di Love Live! E di Love Live! Eh sì, ma quello era ovvio. Cioè, no, era scontato. Comunque io penso che sia veramente un pensiero molto giapponese quello di Rumiko Takashi. Tanto giapponese. Perché i giapponesi, nonostante negli anime ci sia un continuo... Dai, Ski, dai, ti amo! Però è solo negli anime. Allora è falsato il lettore di viewers, però vabbè. Che stavo dicendo? Cioè, negli anime ti amo come se non ci fosse un domani, no? A volte proprio in scene... Io vorrei ricordare come Rem... Spoiler, non posso dirlo. Però vabbè, se non sapete chi è Rem, è meglio. Però è bella. Rem è quella di Death Note, chiaramente. Non insultare Rem! È una battuta, così la gente non capisce di cosa sto parlando. Anche se anche Rem è di Death Note, per amore. Vabbè, comunque. Però, cioè, nella realtà, i giapponesi non si dicono praticamente mai ti amo. Cioè, anche quando stanno assieme. Io adesso non mi ricordo se questa cosa l'ho letta, ho sentita da qualche parte. Non so se è vera, ma mi pare di ricordare che, nonostante nella lingua ci sia, il ti amo non viene praticamente mai usato. Al massimo c'è il mi piaci, ti voglio bene, ok? Tu dici, almeno nel matrimonio, no? Manco... Neanche in quello. Perché sono giapponesi, non so perché. Sì, infatti. Che è una cosa, in realtà, che si vede anche nelle serie americane. Tipo che questi, tipo, che ci sono questi due ragazzi, tipo, che trombano della mattina alla sera, no? E poi, tipo, lui dice, io ti amo, e lei, no, no. Cosa? Cosa? Parto per il Messico, ciao. Sì, esatto. Eh, giapponesi e americani hanno molte cose in comune. Tipo, una bomba. Però va bene. No! No! Non è capitato. Mi dissocio, mi dissocio tantissimo. Io ce l'ho fatto. Va dietro il Joker di Hiroshima. Mi dissocio. No, mi dissocio anch'io. Ovviamente era a livello storico, lo stavo dicendo, chiaramente. Vogliamo fare delle fiction o strane? Ci sono preti che hanno il potere della super confessione che fa confessare... Ah, beh... Don Matteo. Di solito le puntate di Don Matteo sono sempre così. C'è un caso, un omicidio, no? A volte. Questa cosa è molto manzoniana, devo dire. Del prete che fa mettere insieme la coppia. Ricorda molto... Cosa? Fra Cristoforo. Sì, Fra Cristoforo. Ancora mi ricordo i promessi sposi, ragazzi. Incredibile. Bravissimo. No, io parlavo di confessione e anche tipo di un reato. Cioè, nel senso... Cioè, sei stato tu a ucciderla. No, 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 no. Dai, dillo. Che l'ha convertito l'innominato. Venti di i tuoi peccati. È vero. È tutta colpa di Manzoni, ragazzi. Se abbiamo Don Matteo, è colpa di Manzoni. Comunque, appunto, parlando di cose serie, non riesco a criticare totalmente il Miku Takashi perché è un pensiero tipicamente giapponese ed effettivamente... Un giorno apriremo una rubrica sulle commedie romantiche e la chiameremo tutta colpa di Manzoni. Esatto. Cioè, chiaramente farebbe piacere, dopo una vita, che tu guardi le vicende di Ataru e Lamu, di Ramma e di Akane, di Inuyasha e di Kagome, eccetera, eccetera. Tu vorresti effettivamente leggere un fottuto ti amo? Dici, oh, almeno abbiamo concluso, abbiamo fatto. Ad esempio, scusa, tipo noi in Kaguya-sama, no? Prima o poi, o vorremmo sentire questi che si riconotiamo a vicenda, in Nagatoro, quanto sarebbe bello vedere questi due che smettono di fare i rincoglioniti, perché sono entrambi dei rincoglioniti, chiaramente, e si dicono ti amo, eccetera, vaffanculo. Però lei comunque lo fa capire, quindi, boh, vabbè, però sai, è la cosa che dici tu appunto, che la storia finisce quando uno dice ti amo. No, in realtà, secondo me tu puoi mandare, e che qua non posso fare spoiler. Perché c'è lo stereotipo del tutti felici e contenti. Sì. E non va bene. No, stavo leggendo Eremita Nero, che osa dire che c'è un buco di trama nei Promessi Sposi, ma non ti vergogni, i Promessi Sposi è perfetto. Non è che tipo c'è Lucia che fa un fioretto alla Madonna e poi dice, oh no, ho cambiato idea, eh? No, ma se mi liberi dall'innominabile giuro che non mi sposo più, si libera dall'innominabile. Renzo, sposiamoci. L'innominato. Innominabile, innominato. Lui, colui che non può essere, Voldemort. Colui che non può essere nominato. Cioè, nel senso, comunque, tu puoi fare una trama, cioè, fai per un bel po' di tempo questi qua che batti beccano, che chiaramente si piacciono, ma non se lo dicono. Poi se lo dicono e poi, come coppia, comunque fanno delle gag simpatiche. Perché non è che appena uno si fidanza è tutto rosa e fiori, anzi è lì che finisce la felicità. Ah, no, volevo dire. No, però è per dire. Poi è che comunque poi è ridicolo, perché poi vediamo in Uyasha, succedono cose, c'è anche la nuova serie, quindi non se lo sono detto mai, cioè, è chiaro. No? E quindi, vabbè. Senza senso, senza senso. Comunque, Rumiko, sei una delle mie mangaka preferite, sei proprio brava. Allora, è uscito, l'abbiamo detto prima, abbiamo, scusate, abbiamo Record of Ragnarok, che è un record of Ragnarok, questa Americanate. Io dirò sempre Shumatsu no Valkyrie. Sì, ecco, come l'ho sempre conosciuto per anni, quando è un manga che non si cagava nessuno al solito, la mia storia è sempre quella, come Dotto Stone, come My Hero Academia. Leggete, leggetelo, no, 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 adesso è uscito l'anime da qualche giorno, è su internet, però quest'anime è bello, è grazie a cazzo, è da anni che lo dico, è bello. E tra l'altro, ci sono state anche delle lamentele su come è stato diretto questo anime, perché tu, a te ha fatto ridere, ti hanno fatto ridere alcune espressioni di, come si chiama la Valkyria? Beh, mamma, me lo sto, me lo sto dimenticando pure io. Perché io continuo a pensare Berenice, che non c'entra assolutamente un cazzo. Dobbiamo cercare la mitologia Norrena, come cazzo si chiama questa? Mette, non mi viene, sto... Brumilde. Sicura? Sicuro? Scusa, stavo pensando... Mi hai cambiato di genere così, per me. Vabbè, se ti senti più donna, io ti rispetto. Aspetta, aspetta, aspetta. Che brutta figura, che brutta... Eh sì, Brunilde, sì. Hai visto? Ogni tanto la mia memoria non è del tutto andata perduta, ragazzi. Bene. Comunque... Ci sono ancora speranze. Comunque, Slade Wilson, vergognati, io queste cose non le farei mai. Sai, infatti, il fatto che io conoscessi questo manga prima che venisse pubblicato e stampato in Italia è perché ho sempre il cugino dal Giappone che mi manda scanne legali. Eh, niente. Ok. No, comunque, Brunilde... Ti ha fatto ridere, alcune espressioni ti hanno fatto ridere. C'è la scena del cellulare che è meme. Deve diventare un meme quella scena. Eh, ma il fatto è questo. Effettivamente, guardando alcune comparison tra manga e anime, che io non mi ricordavo perché mi ricordo la figaggine, tipo Adamo contro chi sai tu, no? Ma non mi ricordo adesso ogni singolo disegno dettaglio. Però effettivamente io mi ricordavo che Brunilde avesse delle espressioni a volte proprio talmente stupide e brutte da rasentare il capolavoro. Invece, nell'anime molto contenuta, c'ha ogni tanto dei momenti così. Aspetta, io devo fartelo vedere. Io sono sicuro che tu... Ok. Perché se no non capisci. Non puoi capire, proprio... No, vabbè, ci credo. Alla fine, come per Nagatoro, Nagatoro fa delle espressioni pazzissime. No, 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 ma Brunilde... Si dico, mentre nell'anime di Nagatoro ci sono riusciti più o meno a rendere, immagino, le espressioni di Nagatoro pazze. Questa è qua. Questa volta qui in Record of Ragnarok, no? Però la scena del cellulare deve diventare un meme. Allora, quest'immagine è perfetta perché è bella grande, sembra di qualità e te le fa vedere più o meno tutte. Ok? Queste nell'anime non le vedrete mai, mi sa. Guarda, vai. Guarda che bello. Guarda, guarda quella in alto a destra. Guarda quella in alto a destra. Ma che cosa? Io ti ho detto che non potevi capire. Cioè, guarda! Tu devi guardarti il manga da capo. Tu devi recuperare il manga. Io ti ho detto che Brunilde è la mia waifu di questo anime. C'è un motivo. Infatti nell'anime è una signorina proprio contenuta. Invece nel manga è una pazza. C'ha dei momenti... Guarda! È bellissima! È bellissima. E la gente un po' si è lamentata di questo, ma anche del fatto che alcune animazioni siano statiche. tipo c'è uno scontro in cui i due si prendono a pugni continuamente. Però ad esempio quella in alto a destra è un po' eccessiva. E io cosa? Eh, di questo ci si lamenta. Che il manga è così. Anche l'anime deve essere così. Però vabbè, in realtà a me non fa né caldo né freddo. Nel senso, secondo me una cosa che funziona nel manga non funziona nell'anime. Cioè, secondo me effettivamente tipo... Anche quella scelta, anche questo stralcio qui, i power o i umani, secondo me deve diventare un meme. Cioè, ci sono tantissimi meme che può... Da qui... Veramente... Vedetevelo, vi prego. È bellissimo. Sì, io comunque terrei tutta la live con l'immagine di Brunhilde così. No, vabbè, prima e anche poi. No, comunque, a parte tutte cose, ci si lamenta anche che alcune animazioni sono un po' statiche. Però, cioè... Io sinceramente non ci ho fatto caso a queste cose. Io ho visto la trasposizione di un manga che ho adorato e che adoro tuttora, ok? Le musiche, il doppiaggio... Giapponese, perché in italiano mi dispiace. Quello giapponese. Mi dispiace, ma in giapponese non ve lo consiglio, perché c'è Zeus, che in giapponese tu lo senti che è un vecchio. In italiano è uno che ha tipo la mia età e finge che sei un vecchio. È come se non parlassi così. Che, per carità, ripeto, a me piace il doppiaggio. A me piace il doppiaggio italiano, gli stimo. A me piacerebbe entrare nel mondo del doppiaggio. Però non sto dicendo che fa schifo. Hanno fatto il massimo delle loro possibilità. Però questo anime, esattamente come Jojo, se tu lo guardi in italiano, perde. Se tu non senti le esagerazioni del doppiaggio giapponese, che sono... Così, soprattutto col primo scontro. Sono gli ergumeri, praticamente. Esatto. Ti perdi. Perché semplicemente noi italiani non abbiamo quel tipo di esagerazione che in un anime cafone e ignorante, con momenti però altissimi, come... Molto alti. Come record of Ragnarok. Non mi ricordo come finiva la frase, però ho guardatelo in giapponese. Quindi mi stai dicendo che S è psicologia. Perché il nostro nome spari? I nostri nomi sono spariti? Perché? A parte che la gente... Aspetta, quindi è... Aspetta, è quando metto... Ah, quindi la scelta è... Magia! Magia! Quindi la scelta è o i nostri nomi o il titolo. Vabbè, tanto la gente ci conosce, quindi chi se ne frega. Ci conoscono tutti in tutto il mondo. È quasi magia. Alex D'Ignazio93. Alex, è quasi magia. Alex... Quindi tu cosa ne pensi in breve, senza spoil? Cioè, un ultimo pensiero. Ecco, non c'è altro modo per descrivere. Lo dovete vedere. Lo dovete vedere. Sì, e io tra l'altro sto aspettando la seconda stagione. Cioè, io spero che abbia successo perché voglio la seconda stagione. Assolutamente sì. Ma soprattutto per il prossimo scontro, che è il mio preferito in assoluto per ora. poi... Allora, facciamo... Ma l'ospite si chiama Alex D'Ignazio93 e saremmo pure sul suo canale, quindi... Ma no, S, come fai a non capire la simpatica ironia di... Infatti pure io stavo scherzando. Come fai a non capire la mia simpatica ironia? Hai usato la psicologia inversa. Altrimenti non sarei S-psicologia. S-psicologia, esatto. E poi S-inverso si legge comunque S, quindi sei riconoscibile in entrambi i casi. Sei palindromo. Comunque, a parte le cazzate. Perché perdiamo tempo dicendo le cazzate? Che siamo dei cazzoni, in tutti i sensi. Che stavo dicendo? Ah, ecco. No, non mi ricordo più. Ah, ecco no. Perché per chi non sapesse che cos'è il record of Ragnarok, no? Che uno dice, ah, tre ore che dite Zeus, Adamo, ma che cazzo dite? Chi è Brunild? La storia è semplicissima. Dopo, cioè, dopo sette milioni di anni, l'umanità rischia di sparire. Perché ogni mille anni gli dèi si riuniscono e decidono se l'umanità deve continuare a esistere o no. All'inizio del manga, ovviamente, succede un casino perché tutti gli dèi, all'unanimità, decidono che l'umanità deve sparire. E allora arriva Brunild, che essendo le valchirie a metà tra gli uomini e gli dèi, forse in questo mondo, sono le uniche che possono provare compassione e tifare per l'umanità. Poi essa sa una cosa del manga che non possiamo spoilerare, però questo è un altro paio di maniche. E quindi che cosa si decide? C'è una regola che il narratore stesso dice, il narratore che poi sparisce, tipo Jojo, che c'è un narratore iniziale e poi sparisce dopo una puntata. Praticamente c'è una regola che gli dèi avevano messo come scherzo, che però dice che in caso in cui l'umanità rischia di sparire, ha il diritto di fare un torneo uno contro uno, umani contro divinità. e sono in totale tredici partecipanti per ogni squadra e la prima fazione che raggiunge le sette vittorie vince. Ovviamente è scontato che si farà un pareggio con il sei, saranno sei a sei e poi... Quindi in totale ci saranno tredici scontri a meno di colpi di scena. E noi in questo anime, in questa prima stagione, anche perché soprattutto le prime puntate si prendono molto tempo per spiegare un po' come funzionano le cose, perché se no... Abbastanza, sì. Infatti l'unico difetto che riesco a trovare è che all'inizio è lento, poi dopo parte... Pam, pam, pam. Diciamo che il primo scontro è tipo tutorial, poi da Adamo in poi e pem, 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 pem. È bello. È Adamo, è bellissimo. Eh sì. Nella prima stagione siamo a tre incontri e nel manga siamo tuttora al sesto. Quindi la fine di questo manga è lontana. Ma lontanissima proprio perché non esce un capitolo a settimana. Questo fa tipo attacco dei giganti. C'è ne esce uno al mese, bello corposo per carità, però uno al mese. Quindi ciao, addio. Penso che quando finirà si sarà già laureato, specializzato e ha aperto un suo studio di psicologia. Già che c'è. Però ho diventato un psicoterapeuta. Sì sì, e poi io dirò oh ciao S, la facciamo una live e tu, Ignazio, vaffanculo, sto lavorando, smettila di importunarmi. Ah ok, va bene. Per Record of Ragnarok avrò sempre tempo, ragazzi. Sempre. Esatto. Avevo una paziente che rischiava di suicidarsi, ma io ho detto no. Baby, di Record of Ragnarok, non ti suiciderai. È vero, perché ti viene una carica. Inventerò l'anime terapia. L'anime terapia, no. Certo, però se poi vado a proporre Your Line April, quella si suicida per davvero, però... Dettagli. Si suicida per la noia, probabilmente. No, no, sto scherzando, sto scherzando. Your Line April è molto triste. Molto triste, molto triste. Va bene, comunque vedo... Cioè abbiamo parlato un po' di tutto, comunque mi associavo prima sul suicidio, ovviamente è una cosa seria. Non siamo su Twitch, però comunque. Assolutamente. Però un giorno... Allora, questo vale solo per me, è perché Fire Force, 16 milioni di copie stampate, ha raggiunto l'arco finale. Tu, S, direi che minchia è Fire Force. Lo conosco, lo conosco. Solo l'ho sentito nominare, però non l'ho visto ancora. Ma anche perché ci sono due stagioni su Yamato Animation. Lo so, infatti, sì, per quello lo conosco. Quindi lo potete vedere legalmente senza alcun problema su YouTube. Incredibile! E io... Allora, cioè... Addirittura ti sei preso pure il manga di Fire Force. Ma certo, ma perché tu non sai chi è il mangaka di Fire Force. Il mangaka di Fire Force è Atsushi Okubo, che è lo stesso che ha fatto quel capolavoro di manga che io ho pure, ce li ho tutti, perché sono solo 25 numeri. Però ce li ho tutti. questo forse pure l'avrai sentito nominare. Soul Eater. Sì, l'hai sentito nominare pure io. L'anime è una merda, non guardate l'anime di Soul Eater. L'anime... Ok. Anzi, diciamo che l'anime è buono fino a quando segue il manga. Poi dopo hanno fatto, siccome era ancora incompleto, hanno fatto tipo Full Metal Alchemist che poi sono andati a fare cose a caso. Infatti, va schifo. Allora, diciamo così. Voi vi potete guardare l'anime di Soul Eater fino a quando non sentite il nome Aracne. Nel momento in cui un qualsiasi personaggio dice Aracne, voi stoppate e recuperate il manga. Perché è da lì che inizia il delirio. E niente, siccome a me Atsushi Okubo è sempre piaciuto, Soul Eater, io lo ritengo un vero e proprio capolavoro, Fire Force ancora mi sembra ok, però mi piace appunto che mi sto recuperando a poco a poco tutti i manga. Che poi prima dicevamo che quelle là sembravano tutte uguali. Tu guardi Atsushi Okubo effettivamente tu tipo c'è il protagonista che è uguale al protagonista di Soul Eater. Ci sono anche... Però ha uno stile molto bello. E se tu guardi il primo manga che non posso recuperare... Beh, non lo so se l'hai mai notato ma ad esempio Nadia della Pietra Azzurra è praticamente Shinji. Ma cosa dici mai? Veramente, sono uguali. Ha preso lo stesso disegno parito parito ci ha cambiato quattro cose e ha fatto Shinji. Ma tu mi stai dicendo che io ho avuto fantasie su Shinji e non lo sapevo. Esatto! Bene. Sono molto contento di queste cose. Avete fatto una live su Soul Eater e non penso che non la faremo mai perché... perché esse... uno non se lo guarderà mai e anche se se lo guardasse poi direbbe ah... Mi devo recuperare il manga. Mi devo recuperare il manga che schifo leggere quindi niente. Piuttosto vado direttamente per il manga. Ecco, il manga ecco, a Sushi Okubo mi piace un sacco perché il suo stile ormai è... no, non è riconoscibile è riconoscibile che tipo tu guardi un suo disegno e dici ah, questo è Okubo è per forza lui. Ma se tu guardi il suo primo manga anzi no, Soul Eater è il suo secondo manga vabbè, diciamo l'inizio di Soul Eater i disegni fanno veramente schifo è proprio... ma non schifo è comunque meglio di Isayama nei primi numeri dell'attacco dei giganti è difficile superare Isayama però però se tu fai un confronto perché se tu leggi il manga siccome si evolve man mano neanche te ne accorgi no? ti diventa una cosa naturale ma l'effetto è una rana bollita esatto ma se tu... cosa? rana bollita? cosa hai detto? non conosci l'effetto della rana bollita? no spiegamelo che cosa è la rana bollita in pratica una rana se tu la butti subito dentro una pentola d'acqua calda quella si brucia e scappa via certo oppure muore male dentro la cosa perché non riesce a scappare dettagli invece se tu metti la rana dentro la pentola con l'acqua ancora fredda e poi metti la pentola sul fuoco la rana non si accorgerà dell'acqua che si riscalda e morirà bollita senza nemmeno tentare di scappare ah perché dopo una certa temperatura lei viene un infartino e muore non si accorge che sta per morire sostanzialmente bello mi piace che forse già l'avevo sentita questa cosa però vabbè me l'ero dimenticata eh sì comunque sì cioè nel senso se tu confronti il primo numero di soul eater con il venticinquesimo che è l'ultimo è un mondo a parte quindi è proprio di ispirazione per dire cioè uno continua a disegnare è migliore a meno a me piace pensare che che sia così sia così ma anche Bigio con Drizit adesso non fatemi riprendere il mio fumetto firmato guarda che anche Bigio che adesso fa le pin up le cose un po' porno ma guarda che all'inizio lo disegnava veramente di merda e invece ora è proprio bravo 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 quindi e quindi buon per Fire Force che io avevo paura all'inizio quando avevo sentito il progetto avevo paura che dopo Soul Eater che Soul Eater è strano perché sembra che lo conoscano tutti in realtà non lo conosce nessuno in realtà è di nicchia ma non lo è stranissimo come come manga e anime forse proprio perché c'è stato anche un po' l'anima infatti io l'ho conosciuto grazie all'anima e Soul Eater non per altro invece Fire Force è già diventato mainstream praticamente ogni tanto su Instagram vedo immagini cose varie veramente figo sarà anche perché l'opening è una figata atomica quella della prima della prima stagione sarà per quello ma che è successo al mangaka sì ma che è successo al mangaka di Hunter Hunter e c'aveva mal di schiena poverino no lui non lo so che cazzo dice quello là come si chiama Togashi c'è sempre qualche malattia poveraccio e quindi povero sì ma non è vero è una bugia non può essere e poi magari è tra l'altro è morto Miura notizia di un mese fa mi spiega un sacco eh sì no comunque adesso ci arriviamo a Togashi no che comunque il pensiero che a tutti noi viene fan di Hunter Hunter è scusa se sei troppo malato per disegnare per piegarti e stare lì con gli inchiostri con le cose visto che c'hai degli assistenti perché Hunter Hunter ci hanno fatto anche l'anime due volte l'hanno fatto l'anime di Hunter Hunter hanno fatto quello che facevano su Italia 1 Hunter Hunter e poi hanno fatto il remake nel 2011 io ho visto quello perché la versione Italia 1 lo faceva cagare e quindi lui che ha detto questa cosa poi ci arriviamo ma prima parliamo di altre due cosine velocemente vadi vai Jujutsu Kaisen Zero al cinema che hype incredibile mamma mia se voi avete guardato la nostra la nostra recensione la nostra live su Jujutsu Kaisen saprete che noi siamo stati molto presi da questa storia non è che io tipo già mi sono dimenticato un po' tutto quello che c'era dentro no no io no ancora malgrado abbia la memoria cagionevole ancora me lo ricordo sono cagionevole di memoria di memoria sì comunque Jujutsu che cos'è Jujutsu Kaisen Zero esatto gambare gambare comunque Jujutsu Kaisen Zero è un prequel a quanto pare basato sul volume zero del manga che io non ho letto ma dopo è scontato che due dopo un tot abbia fatto un manga zero giusto per raccontare cose niente sappiate che uscirà quest'anno d'inverno uscirà anche in Italia non credo proprio però poi quando vostro cugino da Giappone esatto e io sicuramente non guarderò questo film perché non c'ho voglia e quindi magari poi poi magari lo vedrò però se non ho guardato Madoka Magica voglio dire che era che aveva che era mille volte più interessante vabbè e adesso velocemente una cosa che è molto vecchia come notizia ma teoricamente dovevamo dire la settimana scorsa anche lì sarebbe stata vecchia ovvero le pagine extra di attacco dei giganti quelle che sicuramente esse si ricorda ah te le ricordi bene bravo ok no perché adesso non è che mi metto a dire però il concetto è che molti hanno pensato hanno detto ah adesso sono queste pagine extra che alcuni non avevano capito che nei siti in cui venivano mostrate le erano messe proprio a caso cioè non è che veramente dopo una certa scena cioè perché tipo c'è una scena che avviene tra Mikasa e un altro personaggio e poi le altre scene sono dopo il finale che abbiamo visto noi quindi non è che stanno accorpate assieme però alcuni hanno detto ah però sono due cose diverse sì no però il discorso che hanno fatto molti è ah però queste pagine hanno rovinato il finale che già il finale per molti faceva schifo hanno rovinato il finale ma non vuol dire niente tutto quello che è stato fatto è inutile ma di rovinarlo secondo me no completamente no ma proprio no anzi meglio ancora che poi io ricordo sempre era difficile era difficile rovinare quel finale infatti no era difficilissimo vabbè a meno che non faceva non possiamo fare spoiler porca puttana a meno che non faceva di un personaggio tipo si vede l'albero diciamo questo e si vede la mano di un personaggio che spuca dal terreno anche se in teoria non ce la dovrebbe avere la mano però vabbè quello sarebbe stato una vera rovina tipo the end punto interrogativo e infatti alcuni dicono magari farà un continuo dell'attacco dei giganti io spero vivamente di no perché non ha alcun senso non hai più niente da raccontare dopo il meraviglioso finale dell'attacco dei giganti che secondo me è rimasto veramente ok e con questo con queste pagine extra è ancora più ok cioè se prima gli davo un sei politico per me adesso è sette non sei più per me adesso addirittura no per me è sette perché ha mostrato la futilità e la ciclicità della guerra che è la prima mostra ma poi soprattutto mi ha dimostrato che un certo personaggio non è rimasto appresso a una tomba tutta la sua vita almeno ha fatto qualcosa perché col finale che c'era prima io dicevo porca puttana speriamo che si smuova di lì ogni tanto se no comunque io giudicherò il finale di Attack on Titan definitivamente soltanto con l'anime con l'anime infatti pure io perché alla fin fine col manga non è che si capisca così tanto secondo me ci sarà la battaglia non dico cose incredibile ma nel manga non si capiva niente no ma in generale non si capisce niente era un casino allucinante ma non si capisce niente nemmeno dei poteri che acquista un personaggio alla fine cioè io ascoltando opinioni analisi di altre persone che effettivamente hanno senso mi sono reso conto che noi nella nostra live del 9 aprile quello che era quando era uscito 9 aprile mi pare sì abbiamo detto delle cose che in realtà erano sbagliate ma perché perché nel manga non si capisce una minchia completamente è casinista al massimo il manga l'attacco di gigante è un capolavoro sì sì che è un capolavoro perché adesso tutti lo imiteranno quando una cosa ispira un sacco di gente è capolavoro cioè no può essere considerato anche capostipite e basta però in generale per come sono i propri gestiti i personaggi tutta l'evoluzione alcuni in realtà l'etimologia di capolavoro mio caro cugino significa semplicemente prima opera quindi può essere pure una merda però se è la prima cosa che hai fatto è un capolavoro quindi già posso dire che Ash e la città sacra è un capolavoro esatto ah bene sono contento mi solleva a sentirtelo dire yes 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 come Jotaro con che tu hai finito Jojo parte 2 cioè la seconda stagione per seconda stagione intendi quella con Jotaro sì che è la parte 3 quella non l'ho finita quella non l'ho finita quindi non so ho iniziato le prime puntate no quindi la cosa di yes 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 non la sai no questi perdi questi meme di Jojo vabbè però vabbè quindi comunque per me tanta tanta roba le pagine appunto c'è ragione S perché è già successo che praticamente come si chiama Isayama Ajime Isayama lui fa il manga poi magari c'ha delle idee dopo siccome è sempre lui a supervisionare l'anime praticamente lui l'ha proprio detto non è una cosa segreta cioè per lui l'anime è la versione migliore della sua opera cioè praticamente il manga è una prova e poi nell'anime la perfeziona ma si è visto al finale cioè non è che sì poi ogni tanto l'unico scivolone che gli ho visto fare è stato all'inizio della quarta stagione che c'è un personaggio che lo dico senza contesto c'è un personaggio nella prima puntata della quarta stagione poi l'era senza contesto sì e tipo c'è una ballerina a casa no non è vero no c'è un personaggio all'inizio della quarta stagione che dice ho sognato di volare ok tu che sai che hai letto il manga dici ah vedi poi ci pensi dici aspetta non ha senso perché dovrebbe essere una frase che nel manga non dice che dovrebbe essere una specie di anticipo un flash forward una cosa che però non ha alcun senso perché era sognato e basta o ha visto il futuro e se ha visto il futuro come cazzo è possibile visto che non è in suo potere quindi è un po' quella è un po' una cazzata però tutto il resto ma io vorrei ricordare che il titano corazzato nel primo capitolo in cui appare non ha la corazza cioè è semplicemente un titano con quella faccia lì che spacca tutto poi dopo magari ha pensato che fosse corazzato infatti nell'anime è corazzato sin dall'inizio se tu guardi il manga è tipo nudo ok e dici ok e va bene va bene così oh adesso dichiarazione di Togashi per ante l'ante ora io voglio vedere se riesco a riprendere l'articolo che avevo trovato settimana scorsa che è una cosa che era io intanto non ho più i tuoi feedback facciali perché qui se no mi si sminchia un po' lo schermo nel computer va bene va bene va bene allora ok praticamente dopo un po' di tempo Togashi torna a parlare di di Hunter Hunter e dice che il finale di Hunter Hunter è ancora lontano e io vorrei dire se non ma non l'avrei mai detto se non disegni più un cazzo è normale che lontano arriverà mai a quest'ora avrebbe finito immagino se avesse continuato va bene però siccome c'ha un contratto un contratto che è della Madonna immagino con Shueisha si sente ancora libero di lavorare come meglio crede immagino che Shueisha si stanno strappando i capelli tipo contratto di merda contratto di merda abbiamo sbagliato dobbiamo rendere uno schiavo esatto e lui praticamente dice loro mi lasciano questo su anime punto every eye punto it loro mi lasciano fare quello che voglio la serie a cui sto lavorando ora potrebbe essere un enorme problema da un punto di vista diverso dal mio eh ma mi sto davvero diventando non mi piace sto articolo aspetta lo rileggo non era da qui che l'avevo preso però usate questa ecco infatti questo era questo infatti perché comunque la domanda c'è questa cosa che il finale è ancora lontano ma che lui ha un contratto fighissimo con Shueisha l'ha detto per davvero però la domanda è ma Hunter Hunter potrebbe essere disegnato da qualcun altro che è la domanda che ci facciamo tutti noi cioè tipo piuttosto che non fare più niente dopo tre anni che saranno ormai tre anni forse anche di più eh no oltre 900 giorni si sono due anni e mezzo praticamente quasi quasi tre ma soltanto a me sembrano molti di più però va bene ehm la gente giustamente si dice piuttosto che non fare più nulla scrivi la storia e poi i tuoi ehm diciamo affidi a un altro artista che magari ti sa imitare e gli fai fare i disegni no nope e lui praticamente dice ehm che praticamente lui Togashi dice proprio come è accaduto per il manga per cui lo scorso anno ho scritto solo lo script ah cioè lui ha scritto solo lo script cioè lui nel frattempo ha fatto lo script di un altro manga questo neanche la avevo letta complimenti come Martin che invece di finire il torno di spade eh anzi le cronache del ghiaccio del fuoco si mette a fare le cose quei videogiochi con The Ring vabbè eh se avere se avere un'altra persona ai disegni rendesse il lavoro migliore non avrei assolutamente obiezioni quindi non so se già qui capisci il sottotesto se avere un'altra persona che si occupa dei disegni rendesse il lavoro migliore per la serie io sto io e voi non siete un cazzo esatto e mi dice comunque a parte questo devo finire Hunter Hunter siamo giunti a un punto in cui o la storia si conclude per prima o sarò morto prima che ci accada bene dire questa cosa dopo Miura non gli porterà assolutamente sfortuna ma intendo portarlo a termine dalla mia prospettiva come scrittore ci sono ancora molte cose rimaste che mi piacerebbe scrivere posso solo sperare che ci sia qualcuno disposto a godersi questo viaggio con me cioè praticamente sto stronzo no ovviamente è una battuta mi dissocio praticamente ha detto lo so che sarebbe più facile se scrivessi e basta però non c'ho voglia voglio scriverla io questa storia quindi tra altri sei anni se non sono morto continuo tipo peggio di lui c'è soltanto Gosho Aoyama maledetto non so chi è forse l'avevi detto la mangaka di Detective Conan ah no ok immaginavo fosse lui però che c'entra lui fa lui non sforna in continuazione ma delle volte si prende pause cioè già fa 50.000 filler per il manga ma sì ma perché Detective Conan in realtà non finirà mai cioè fatto apposta per tutti i gialli anche basta eh no non è vero anche i gialli possono finire vediti Gosik eh ma guarda quante volte ha usato le lense da pesca bello Gosik veditolo sì sì non sto scherzando le prime puntate sono di un indrippativo che non ho idea va bene eh allora tu guardati non lo so che cosa ti avevo chiesto di guardare guardati Dragon Maid no non è vero scherzare no anzi ma quello che disegna Detective Conan in realtà cioè ormai avendo capito la natura del manga quando poi lui ogni tanto mette della trama mi sento preso per il culo perché so che non non è vero One Piece si vede che sta finendo stavolta ci credo che mancano più o meno cinque anni che senso sì sì no perché lui praticamente Ichiro Oda dice tipo tutti gli anni siamo all'ottanta per cento mancano cinque è tipo da dieci anni che mancano cinque anni ma siccome stavolta in One Piece si sono affrontati argomenti finalmente di un certo spessore dopo è scontato che sia vero che dopo l'attuale saga di Wano Kuni finalmente si vada a vedere che cazzo è sto One Piece che vorrei vederlo prima di morire cioè ecco che poi una volta che trovano il One Piece raga la storia non finisce perché trovare il One Piece servirà immagino per sconfiggere no per sconfiggere il governo mondiale e sconfiggere anche il vero re del mondo quindi ti immagini tipo tra un anno trovano il One Piece così debotto senza senso e poi la fine sarà soltanto tra un anno mi sembra difficile però sì secondo me tra anche tre anni e poi gli altri due sono battaglia finale contro il governo cosa che non c'è stato in Cinzecaiori no Cinzecaiori ho sbagliato ma perché devi attaccare sempre Cinzecaiori no ma perché perché mi confondo Cinzecaiori a parte il finale del governo stai parlando di quella di quella cosa orribile no sì quella cosa orribile con i poteri cinetici come si chiama Darling in the Trunks no anche Darling in the Trunks sì vabbè no a parte quello però no come ne abbiamo parlato vabbè quello con i con il Bonobo con i poteri telecinetici quelli con i Bonobo era Cinzecaiori e come si chiama quello con i porno in che senso quello con i porno come si chiama come si chiama quell'anime che abbiamo sempre con la S Shimoneta 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 allora era giusto Cinzecaiori allora perché devi insultare sempre Cinzecaiori perché se lo merita scusate non è vero mi ritiro tutto quello che ho detto prima vabbè comunque Doraemon non finisce mai appunto perché non ha alcun senso cioè poi anche dopo che è morto l'autore originale hanno continuato a sfornare cartoni su cartoni perché in Giappone è pem 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 spopola un sacco quanto ci scommettete che Shanks il Rosso muore tra le braccia di Rufy mamma mia che banalità che banale no io anzi spero che Shanks rimanga vivo abbastanza per vedere Rufy diventare dei pirati al massimo Shanks e Rufy prima o poi si affrontano ed è l'ora che Rufy gli restituirà il cappello di paglia perché tu esse non lo sai ma nei primi nei primi leggendari capitoli di One Piece i primi ok Shanks il Rosso che è uno dei pirati più forti del mondo siccome era amicissimo di Rufy quando ancora Rufy era un bambino lui per salvarlo perde un braccio bla 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 e poi gli dà questo cappello di paglia che poi diventa il simbolo di Rufy e gli dice te lo affido me lo restituirai quando sarai diventato un grande pirata incredibile quindi secondo me a un certo punto Rufy cappello di paglia diventa Rufy punto è questo è questo che segnerà la crescita finale del personaggio segnatevelo tra quattro anni quando arriveremo a Rufy che poi quel cappello è appartenuto anche a Gold Roger re dei pirati questo ormai è assodato è fighissima questa cosa anche a Joy Boy vabbè tanto tu non sei un cazzo di One Piece quindi che ti parla tu non sai nemmeno chi è Joy Boy non sai neanche chi ma neanche chi ha letto il manga sa chi è Joy Boy ma è un mistero è un grandissimo mistero si suppone che Rufy sia una sua reincarnazione pensa te incredibile o anche solo a livello di filosofico una sua un suo erede ecco spirituale diciamola diciamola così e concludiamo la live di oggi eventualmente poi se ci sono domande extra in qualche minutino ce lo possiamo prendere con questa cosa che mi riempie di tristezza ma anche un po' di felicità non so come non so come diciamo reagire a una notizia del genere Kaguya Sama che è stata anche la nostra prima live vero la primissima live di questo tipo è stato proprio per recensire Kaguya Sama Love is War perché io volevo farci un video poi mi sono detto che palle registrare e montare faccio una live direttamente ciao e da lì poi è cominciato tutto è cominciato tutto ma poi è ottobre ma è quasi passato un anno ma che cazzo stai dicendo non è possibile questa cosa anche perché a novembre abbiamo preso una pausa perché ce l'ha Valal quindi vabbè però ho già quasi un anno figo Kaguya Sama è quasi alla fine io che sono in pari col manga posso dire grazie al cazzo perché dopo quello che è successo dico ebbè mi devo recuperare il manga di Kaguya Sama stasera comincio a leggere il manga di Kaguya Sama ma te lo devi leggere da capo sì assolutamente sì allora uno perché ci sono delle gag che nell'anime non hanno messo ovviamente mi manderà tutto in modo legale il nostro cugino del Giappone sì 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 ovviamente uno perché ci sono delle gag che nell'anime non hanno messo e due perché tu non ti ricordi già più un caso esatto quindi sarà come rivederlo la prima volta che bello ragazzi ci metterai ci metterai dei giorni perché sono un sacco di capitoli ma quando finirei Kaguya Sama sarai arrivato in pari comincia Nagatoro ecco basta ok comincia Nagatoro Nagatoro devo dire che l'anime credo aggiunga addirittura cose al manga perché io vedo che ci sono delle gag che io non mi ricordo che lo fanno apposta magari Nagatoro ricomincio poi da dove finisce l'anime eh sì quando manca l'ultima puntata di Nagatoro sì al massimo con il manga c'è roba un po' più leggermente più spinta più ecci però siccome già nel siccome già nel che già per me sarebbe un motivo per riguardarlo da capo ma c'è già nell'anime c'era la cosa della lavata delle mani no quindi diciamo comunque che l'anime non è malissimo da questo punto di vista anche quello è un gioiellino meraviglioso Nagatoro esatto no bellissimo a me ha fatto pisciare troppo il quadro della presidentessa non dico nient'altro ma mi ha fatto pisciare troppo alle risate quando l'ho visto ma che è che poi allora ti posso dire che a me la presidentessa per come è resa nell'anime a parte che non pensavo avesse quei colori lì io pensavo fosse una roscia pensavo fosse una roscia per come era fatta invece è viola con i capelli rossi proprio vabbè con gli occhi rossi però non lo so a me nel manga piace di più nell'anime rende poco sì secondo me io sono convinto che abbia il seno più grande nel manga sono a parte gli scherzi non lo so c'è qualcosa che non mi non mi convince al 100% della presidentessa però solamente per sentire la doppiatrice di Nagator che è perfetta ne vale la pena che cos'è è un altro nome per chiamare Igeiro sì allora vedi visto bravo Mattia Giuseppetti vediti Igeiro per favore io queste cose con le minorenni non mi permetterei mai ti giuro che è serio questo questo anime è serissimo non fa ridere no no delle volte fa pure ti mette quasi pure il magone è bello veditelo va bene poi ma è finito l'anime manca l'ultima puntata come Nagatoro e allora poi ah è contemporaneo a Nagatoro sì va bene a parte che tanto devo ancora finire il manga di settimana prossima il manga l'anime di settimana prossima e poi si vede qual è l'anime della settimana prossima ah ok me lo sono ricordato grazie considerando che sei stato tu a dirmi di guardarlo vero vero anche poi il cappello di Gold Roger che Rufy non lo riconosce nessuno solo Silver Riley e Shanks ma perché penso che Gold Roger non lo indossasse tutto il tempo quel cappello ecco cosa dobbiamo fare noi adesso a fine live dobbiamo fare il sondaggio il sondaggione ci dobbiamo mettere però le cose dell'altra volta che non mi ricordo più anzi facciamolo adesso facciamolo adesso in diretta sondaggiate vabbè sì sì che poi l'altra volta ci ha portato a vedere Jujutsu Kaisen quindi non so quanto sia dobbiamo mettere tutti degli anime tutti sconosciuti vabbè mi pare che siano già così perché noi l'altra volta allora aspetta madonna risale a un mese fa votate l'animo alla lista della volta scorsa devi levare Jujutsu Kaisen e aggiungere Arslan Senki sì allora aspetta devo aprire due pagine se non mi ricordo oppure Igeiro fai tu eh però Arslan Senki è tanta roba è tanta roba Arslan Senki Arslan Senki tra l'altro quelli che hanno fatto Record of Ragnar che sono gli stessi che li sono occupati di Arslan Senki come anime incredibile eh sì allora quindi deve essere un sondaggio per tra due settimane giusto perché settimana prossima già c'è una roba è per forza perché sennò poi non abbiamo il tempo per vederlo esatto eh sì quindi l'otto l'otto luglio ok scegli l'anime no non posso farlo da qua scegli l'anime per l'otto l'otto luglio se tutto va bene e non mi esplode niente noi abbiamo ritardato così tanto che praticamente in teoria dovremmo fare subito dopo un altro nani news però evitiamo perché dobbiamo rincucare degli anime allora c'è nani news poi lo facciamo per per gli stagionali sì per gli stagionali autunnali allora posso fare copia e incolla no ah forse sì perché io non ho voglia di riscrivere di nuovo Araburo Kisezun Otome Domo Yo non ho alcuna voglia di riscriverlo allora que Araburo Kisezun che ogni volta non mi ricordo che cacchio è poi lo scoprirò quando finalmente arriverà il suo momento poi c'è una cosa che potrebbe piacere poi c'è Gosik che già l'avevamo messo l'avevamo messo nel sondaggio dell'altra volta sì sì ci sono tanti bei anime per la prossima volta i Bicheofonium questo mi interesserebbe i Bicheofonium non cercare di 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 come dire di di polarizzare le masse Yoka che non mi ricordo che cos'è Yoka Yoka è quella è quello della espo è quello della psichica ragazzina no è quella l'abbiamo vista in un in un meme abbiamo visto questa tizia e ti ho chiesto io da dove venisse che me l'aveva scordato totalmente come era e poi ho detto ma questo anime me lo ricordo è Yoka ok ho guardato l'immagine ho capito cos'è devo mettere Arslan Senki o la leggenda di Arslan metti Arslan Senki tanto la leggenda di Arslan come record of Ragnar esatto che poi con un giapponese significa la leggenda di Arslan sì però va un culo l'attacco dei giganti Arslan Senki ok ok mi sa ok quindi praticamente Araburu Kisezono Tomeo Domo Yo Kosi Kibike Euphonium Yoka Arslan Senki Yuka Yuka quanto tempo diamo alle masse per votare fino a domenica quando finisci cosa quando finisci quello che stiamo vedendo adesso per la settimana prossima cioè giovedì pomeriggio praticamente o poche ore prima che inizia la live perché io mi dico sempre all'ultimo diamo a vera diamo una settimana cioè appena noi e poi ce la fai a vederti Big Euphonium perché sono due stagioni minchia che palle tanto sicuro lo votano sicuro e allora facciamo come le altre volte fino tipo alle 8 di domenica sera ok così a caso è un di sabato fino alle 8 di sabato avete tempo fino alle alle 20 di sabato cos'è questo sabato 26 avete tempo fino alle 20 di sabato 26 giugno poi taggami che lo ricondivido hai ragione me sei furbo tu ecco eh 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 ti taggo vabbè niente ti metto S psicologia a caso anche Erzalan Senchi ti ricordo che due stagioni vabbè tanto velocizzo tutto eh velocizzo tutto no anzi devo mettere scegliete se no S psicologia c'è anche Peppa se metto S mi spuntano vari canali tra cui il tuo e anche Peppa Pig spagnol latino canale che ha 18 a 18 4 milioni di iscritti potei farci un pensierino una collaborazione che tra l'altro io non so se lo sai ma io l'ho intervistata la doppiatrice italiana di Peppa Pig veramente con Assassin's Creed sì che l'ha fatto un personaggio l'abbiamo fatto dire con la voce di Peppa Pig nulla è reale tutto è lecito è stato è stato molto divertente guardate il salotto degli assassini per sapere ma alla fine quel meme che mi avevi mandato del salotto degli assassini eh mi sa che quella era una cosa più interna era una cosa interna pensavo volessero pubblicarlo o se lo sono dimenticati ricordati di pubblicarlo perché è bellissimo quel meme io ancora ce l'ho conservato ogni volta me lo guardo per tirarmi su di morale e niente ruttissimo e niente l'ho pubblicato per l'otto luglio giusto sì sabato ventisei giugno bene 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 mini 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 ragazzi abbiamo fatto quindi aspetta che qui parlerete di The Seven Deadly Sins no perché se non l'ha visto e non lo guarderà mai non è vero The Seven Deadly Sins sono tentato di vederlo sì solo perché c'è quello che tasta le tette no non è vero allora io te lo dico l'anime è una merda mi dispiace dirtelo e poi dici perché non lo vedrò mai ma leggiti il manga con il nostro cugino giapponese il manga quanti manga devo leggere io ancora devo finire i due volumi di coso di di Medinebis e leggilo che spacca no ho paura ho paura che il volume 9 finisca con un cliffhanger talmente grosso che ancora il volume 10 deve uscire non lo so a che punto è arrivato sto qua cioè tu il volume 9 ce l'hai proprio a casa fisico sì certo e non l'hai cioè io morirei dalla curiosità tu sono mesi che ce l'hai io ti giuro ho paura che quel volume finì perché per come è messa la situazione ho capito che il volume 9 non riuscirà mai a concludere l'arco narrativo di cui stanno parlando adesso quindi secondo me quel volume 9 finirà con un cliffhanger della madonna e io rimarrò col dubbio fino a quando non uscirà il volume 10 per questo non lo sto leggendo sì io nel frattempo stavo ridendo perché c'era Mattia Giuseppetti che ci aveva chiesto parlerete di Rising Shield Hero è quello dello scudo aspetta che forse ho scritto è quell'Isekai col tizio che c'ha lo scudo no sì mi ha fatto ridere perché ho pensato a te con un altro Isekai ah ecco da dove viene questa qua con le orecchie d'animale ah che la vedo sempre su Instagram ora so da dove viene vedi comunque probabilmente no perché l'unico Isekai che è se si è guardato è stato Re Zero e ha fatto bene perché Re Zero mi ha iniziato tantissimo perché Re Zero è qua quindi ormai è difficile adesso ma sì perché cioè la mia seconda guai fu il Ren quindi è riuscito a conquistarmi tantissimo sì la prima è Asuka eh perfetto Asuka Asuka va bene va bene dai io direi che possiamo ah aspettate il momento il momento del flex io ho il primo numero di Jojonium tu sai che cos'è Jojonium? è un manga di Jojo è un manga però questa è copertina rigida direttamente costa infatti 16 euro a botta ah faccio no cazzo mentre i manga normali costano tipo sui 4 euro e 90 questo costa 15 e 90 ok anche se su Amazon era scontato di tipo 20 centesimi non lo so e praticamente eh poi tu tu sfogli le pagine guarda è uscito alla fine è uscito parlando di Sekai hai visto? guarda l'ultimo commento di Mattia Giuseppetti guarda cosa c'è l'ho sbagliato l'abbiamo parlato all'inizio hai visto? bellissimo però tu hai detto di no quindi io mi fido e non lo guardo magari poi quando vado in pensione lo guardo ecco Nani News aspetta si esatto ah no Nani News era là ok no no stavo per fare una citazione bellissima che è di 100 punti a chi la riconosce ma questa è abbastanza tipo il bello dei manga è che tu li sfogli e profumano di Giappone non conosco questa citazione eh questa è qualcuno lo toglie eh no è uno youtuber ok è uno youtuber questa cosa profumano di Giappone mi è rimasta in testa perché fa eh fuochino fuochino se conosci la gritta di Dario esatto esatto questo è uno dei primi è uno dei primi video che Dario Moccia ha visto di mangaka 96 quando ancora non si conoscevano che ormai sono amicissimi però fa molto strano vedere Dario ancora criticare aspramente Luca eh e quindi c'è c'è il mangaka 96 che prende un manga a casa e fa profumano di Giappone che è una cosa che mi ha fatto così mi ha fatto ridere tantissimo a parte comunque che non è vero che questo Jojonium ha l'odore di un sacco di fumetti giapponesi dipende dalla carta eh no comunque se siete appassionati di Jojo e non badate a spese come quello di Jurassic Park eh c'è questa c'è questa c'è questa collana che in Italia è della chi è che la sta facendo in Italia eh maledetti ditemi chi la sta facendo ah beh sempre Shueisha o all'inizio o alla fine ci dovrebbe essere sì ah beh poi c'è scritto Shueisha ma Shueisha vabbè non importa voi andate su Amazon e cercate Jojonium ok comunque niente semplicemente per dire che questa cosa è geniale è bellissimo cioè ovviamente se non badate a spese perché è una serie di volumi questo è il primo ok che racchiude il manga di di Jojo ok però intanto c'ha la copertina che sono i personaggi vecchi questo è Jonathan ok questo è Dio è Brando e questo è il Danny il cane di Jonathan prima che Dio gli facesse quello che noi sappiamo però appunto sono ridisegnati col suo attuale stile che non c'entra niente con lo stile dell'epoca anche anche Arachisi è molto molto evoluto e in più oltre al fatto che alcune pagine sono a colori altre anche se non sono a colori hanno questa cosa che trovo molto figa che anziché essere in bianco e nero hanno tipo queste sfumature arancioni vedi particolare che è molto particolare molto bello e poi verso la fine c'è un commentino di Arachi che ti spiega come gli è venuto in mente pensare a tipo in questo caso si parla del primo Jojo quindi come gli è venuto in mente parlare di Jonathan di Dio Brando quindi se siete dei veri appassionati di Jojo comprateli tutti per adesso in Italia siamo arrivati credo al 17esimo volume in Giappone credo forse a 18 quindi sono avanti di uno anche perché il covid non ha aiutato prima ne usciva uno al mese poi col covid è diventato tipo uno ogni tre mesi dipende e niente praticamente io prima o poi anche se ci spenderò un sacco e non so dove mettere tutti questi cosi che sono belli spessi come potete vedere e non sono nemmeno pieghevoli perché ripeto la copertina è rigida però che soddisfazione tenere una bella copertina rigida mentre regge Jojo e niente che poi credo che per adesso si siano fermati a Stardust Crusader che è quello con Jotaro però immagino che andranno avanti anche poi con il Daemon di Sunbreak che bolvento aureo bla 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 io vi voglio al pub dell'amico di Dario Moccia eh ma se Dario non ci invita non ci possiamo fare niente Akame Gakil io lo sento spesso lo sento molto spesso oh no di che parla dice uno degli anime più drammatici che ho mai visto no perché non mi piacciono i disegni però magari va bene anche anche Code Geass fanno schifo i disegni poi eh aspetta aspetta leggiamo la trama allora è uno shonen intanto avventura dark fantasy ok la storia è incentrata sulle avventure di Tatsumi un giovane di paese che viaggia per la capitale dell'impero allo scopo di guadagnare denaro per il suo viaggio tuttavia dopo aver scoperto che nella città è presente un'estesa corruzione entra a far parte del gruppo di assassini del Night Raid per aiutarli a combattere l'impero per porre fine alla politica corrotta ma immagino comunque queste traduzioni vabbè cioè traduzioni questi viassunti non rendano al 100% arma imperiale armi più forti e misteriose non tutti mi sembra molto classico però magari adesso perché armi 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 vabbè prima o poi lo mettiamo insieme a Monster io Monster mi sono fermato tipo alla puntata non mi ricordo se alla puntata trentunesima lo stavo quasi per finire però porca miseria se è lento questo anime è bello non dico che è brutto è bellissimo è come come Casperina si chiama come cowboy bb bellissimo 86 si chiama proprio così il manga anzi una light novel 86 che poi immagino ci avranno fatto ci hanno fatto un anime anche sì 86 vabbè poi ci pensiamo adesso ciò caldo non ce la faccio più ciò caldo io sono qui bello col climatizzatore e il ventilatore che dovete capire qui Catania è diventata tipo il set di Evangelion che c'è l'estate incredibile col caldo tutti quanti che stavano caldo 48 gradi belle le action figure di questo vabbè però basta non posso basta basta action figure basta allora sponsorizziamo la tua wish list vabbè a proposito a proposito di action figure se voi volete farmi ma non c'è neanche tu una wish list ancora devi fartela prima o poi la farò quindi se per qualche motivo avete voglia di farmi dei regali che voi dite wow ma Alex Ignazio 93 è il mio youtuber preferito quanto vorrei mostrargli il mio rispetto con il vil denaro voi potete andare nei miei ultimi video in cui c'è anche messo oppure nel tipo nelle informazioni del canale nella pagina principale c'è il link comunque io ormai da una settimana forse anche di più ho reso pubblica la mia wish list di Amazon e niente quindi compratemi le cose niente se volete io ho pure indotto lo spammino tattico bello bellissimo poi poi inducimelo quando finalmente pubblicherò il mio libro perché te lo sarei scordato esatto oppure magari facciamo tipo che il mio libro lo metto qua così e poi tipo Alex ma cos'hai dietro oh oh questo non mi ero accorto di averlo messo qui vaffanbagno bellissimo va bene dai ragazzi grazie della partecipazione noi ci vediamo settimana prossima con un anime misterioso di cui non anzi no noi gli anime dobbiamo rendere misteriosi ma l'abbiamo detto forse ma l'avevamo detto l'avevamo citato vabbè comunque a noi conviene dirli così magari la gente si prepara noi parleremo di Kokoro Connect stavolta l'ho detto giusto oh ma a che puntata sei arrivato di preciso no sempre a quella sempre a quella lì ah bene io già l'ho finito mi sono scordato tutto tra poco sì esatto non importa se tu mi dai perché ci si rompe il pc una settimana in più per vederlo io mi ridurro sempre all'ultimo è proprio io sono fatto così tipo nel tempo libero che fai niente guardo Nagator e basta quindi va bene dai noi vi salutiamo e ci vediamo settimana prossima appunto con Kokoro Connect sto morendo niente quindi niente ciao ciao ragazzi ciao saluta e qua stavo aspetta aspetta che mi sta vibrando il telefono mi stanno chiamando pronto ah ciao sì sta bene ora sì no non avrebbe motivo di bloccare il tuo numero vabbè se non riesci a chiamarlo ci sarà un motivo vabbè strana questa cosa vabbè ma il numero bloccato assolutamente no una missione adesso boh va bene adesso glielo dico glielo dico come tua sorella mi saluta ah eh non non se sono in un tour eh 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 ti prego non dirmi che era Gina non dirmi che era Gina e invece era proprio Gina e voleva sapere come stavi va bene ora sfrutterò una cosa poco scientifica ma efficace e che cosa una bellissima bambola voodoo ci sentiamo devo ordinarne una in questo momento su Amazon e prendere uno spillone enorme ma aspetta dobbiamo andare in missione non hai sentito la chiamata va bene la compro dopo comunque che missione è? eh di nuovo problemi con un universo parallelo dobbiamo recuperare la spada di Einstein beh è sempre meglio di quando abbiamo dovuto distruggere il caro armato bianco di Napoleone facciamo in fretta ma poi prendiamo quella bambola va bene perché è necessaria no di prenderla puoi prenderla devi vedere poi se ci sono le le offerte su Amazon che adesso c'è magari lascio fare al mio il mio doppio sì in Carolina sì 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 Grazie.